Il gol di Klivchuk al novantesimo aveva tarpato le ali al volo della Villa Marina nell'ultima giornata di campionato. Una Villa Marina rimasto comunque ad occupare una posizione di rilievo nella griglia dei playoff anche dopo il pareggio. Sulla carta sembrava più abbordabile l'impegno di oggi contro l'Accademia Marignanese, eppure la recente vittoria ottenuta dai gialloblù sul Rumagna con il pirotecnico punteggio di 4 a 3. Induceva la squadra padrona di casa alla massima prudenza. In effetti una prudenza c'è stata ma per appena due minuti perché il Villa Marina parte alla grande e trova subito il vantaggio con questa conclusione di Fellini che non lascia scampo a Martini 1 a 0 in match che come si suol dire si mette in discesa per la squadra appunto Cesenaticense che al settimo cerca anche di raddoppiare i conti il pallone che termina sul fondo quello alla decimo chiedo scusa quello di Mazzuoli dopo la possibilità per Ottaviani. Andiamo al ventitresimo ottimo primo tempo per il Villa Marina. Altra chance e salvataggio col tacco addirittura quello di Beccari sul tiro di Mazzuoli che sembrava botta sicura ancora in attacco il Villa Marina ancora un salvataggio l'Accademia che resiste letteralmente a presidio della propria porta sacrificandosi a volte immolandosi coi propri giocatori rimanendo però in agguato infatti arriva questa conclusione che fa squillare un campanello d'allarme Morrici prova con Ambrosini che gli dice di no in splendido volo plastico il finale di tempo ancora per il Villa Marina con Fellini salva il portiere ospite si va all'intervallo con un Villa Marina che sembra in controllo ma che in realtà di controllo ne eserciterà ben poco perché l'Accademia ottiene una grande reazione. Andiamo allora con le immagini al cinquantanovesimo minuto calcio di punizione deviato in fondo al sacco Ottaviani che dunque pareggia i conti il match che va sull'1 a 1 e poi sessantasettesimo minuto altro colpo di testa questa volta vincente però quello di Pontellini ed è sorpasso dell'Accademia marignanese in casa della Villa Marina 2 a 1 match che cambia totalmente padrone ma che ritrova però ancora il Villa Marina protagonista l'ottantunesimo in bucata centrale esce male il portiere forse ci potevano stare gli estremi per il rigore ma è tutto regolare e allora spulisce tutto Mariotti il gol dell'1 a 1 ma non è finita lancio profondo del portiere esce male qui in questo caso Martini blocca il pallone fuori dall'area di rigore espulsione per lui occasione per il Tris ma il vice Badioli è entrato in campo neutralizza la punizione di Fellini e allora match che termina così match che termina sul 2 pa e allora